Gentili telespettatori, buona giornata. E così Magliaro che è un esponente della destra italiana che spesso va nelle trasmissioni, credo si sia autoproclamato difensore della destra, anche se sinceramente quando lo senti parlare. E questa volta, dato che è uno degli yes man televisivi del governo, dice che all'aria che tira, che proprio qua tira aria di governo tecnico. Quindi Meloni, Salvini, Open Arms, tutto quello che abbiamo visto, dice proprio qui tira aria di governo tecnico, cioè di una caduta del governo Meloni per poi fare un governo tecnico tipo quello Draghi. Infatti Draghi, a colloquio con Marina Berlusconi, è stato incredibile perché potrebbe Marina Berlusconi aver chiesto a Draghi se fosse davvero magari intenzionato a tornare a guidare il paese se questo governo. Chissà che Marina e Pier Silvio abbiano deciso di far cadere questo governo e volevano sapere da Draghi se aveva intenzione di guidarlo, questo governo tecnico, con Forza Italia che ovviamente appoggerebbe un governo tecnico insieme probabilmente alla sinistra. E così Paolo Magliaro, che era l'ex portavoce di Giorgio Almirante, ex vice direttore del Tg1 e ormai difensore d'ufficio del centrodestra in televisione, proprio sulla 7, unisce i puntini ed è lì in uno scenario particolare. Voi direte come mai sulla 7 questo Paolo Magliaro diventa un punto fisso? Il punto fisso lo diventa perché sulla 7 gli esponenti di centrodestra non ci vanno. La 7 è ormai definita una televisione di sinistra, quelli di centrodestra e i loro partiti gli impediscono di presentarsi. No, tu lì non ci vai, no, non ci vai, non ci vai. E quindi all'aria che tira, o non so, da Lilli Gruber, da Formigli, da Floris, diciamo che non andandoci politici ci vanno poi quelli che accettano di andarci. La 7 prova a chiamare, a chiamare, a chiamare, fino a che c'è qualcuno che poi risponde. Poi la 7 è anche ben felice di avere magari qualche difensore del centrodestra magari non proprio non proprio geniale. Ecco, quindi una delle tecniche che utilizza la sinistra è proprio quella di chiamare come difensori del centrodestra, diciamo, non proprio degli esponenti di punta, anche perché non ci vanno, però preferiscono prendere persone, insomma, che non fanno poi delle belle figure. Quindi tu inviti quello di sinistra che sai che è bravo a parlare e ti fa fare anche bella figura e poi inviti quello di destra che sai che magari è molto probabile che faccia fare una brutta figura alla propria area politica. Va bene, questa è una mia riflessione. Torniamo a Paolo Magliaro che sulla 7 dice che è San Giuliano, è La Boccia, è Arianna Meloni, è Marina Berlusconi che parla con Draghi, è Salvini, è quello con i quadri, quella con i giocattoli per adulti, è quell'altro che si autopatteggia per corruzione, è poi il pistolero di Capodanno, è quello che in Parlamento rivela segreti d'ufficio, è la Santa Anchella, è l'Inps, è la Cassa Integrazione, è il compagno Dimitri Kunz, Kunz, Kunz. Ecco, diciamo che intorno a Meloni c'è un bel subbuglio, no? Cioè intorno a Meloni stanno correndo come dei pazzi. La Meloni proprio l'altro giorno diceva, ma non possiamo fare la figura degli scappati dall'asilo. Insomma, insomma, per poi non dimenticare Lollo Brigida e i video di Gian Bruno. Insomma, in questi due anni ne sono successe di cose e nei tre anni che ci sono adesso fino alla fine della legislatura che cosa verrà fuori? Se in due anni è venuto fuori tutta questa roba qua, negli ultimi tre anni, che non siamo neanche a metà del governo, ma che cosa succederà? Che cosa prepareranno? Ma infatti Paolo Magliaro, che come vi dicevo è uno degli yes man televisivi del governo, quindi lui solo si è autoproclamato difensore d'ufficio, e rimane un po' sfiduciato e dice, beh, a questo punto potrebbe venire anche un governo tecnico. Alla fine si è un po' avverato quello che diceva Crosetto, quello che diceva Sallusti. Vi ricordate che tutti e due dicevano, attenzione, stanno per arrivare, adesso vedrete cosa combineranno contro il centro-destra. Alla fine, in questi due anni, ne sono successe di tutti i colori. Però siamo sicuri che sia un complotto o forse semplicemente Sant'Anche, San Giuliano, il pistolero, o semplicemente siano delle persone che sono delle persone non adeguate a ricoprire ruoli di governo, ma semplicemente degli amici messi lì? Sul caso Salvini, come dice Salvini, c'è un complotto. Diciamo che tendenzialmente credo a quello che dice Salvini, però quando mi parlate di Sant'Anche, del pistolero, di San Giuliano, quello dei quadri, quello che si comprava i giocattoli per adulti, quello che patteggia per corruzione, insomma, non mi sembrano che ci siano dei complotti qua, probabilmente ci sono delle personcine che non erano completamente adeguate a ricoprire, ma neanche da lontano, un ruolo vicino al governo. Proprio già è tanto se riuscivano a fare i parlamentari. Ecco, quindi diciamo che il più grande errore di Meloni è stato nominare queste persone intorno a lei. Fedelissimi, va bene, sono d'accordo che sono fedelissimi, però sti fedelissimi, insomma, dove cavolo li hai presi, Giorgia, sti fedelissimi? Erano in saldo? A 9,99 alla Lidl? Va bene, insomma, mi sa che ne vedremo ancora delle belle. Poi abbiamo anche Repubblica, che ieri parlava di eliminare Salvini dalla politica italiana. Questo è il messaggio non troppo subliminare che i giornali fiancheggiatori della sinistra inviano a chi deve recepirli, eliminare Salvini dalla politica italiana. E questo è quello che sta per succedere e probabilmente succederà. Grazie a tutti e arrivederci a presto.